E ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video su GTA 5 Buon anno ragazzi, buono 2020, visto che non ci siamo sentiti più in questi giorni Sono stato veramente malato, con febbre ragazzi che non ve lo potete nemmeno immaginare Quindi questo è il mio primo video dell'anno, gli altri due video prima di questo video Erano già stati caricati in programma Quindi grazie, questo è il mio primissimo video del 2020 E quindi come vedete ragazzi sono un poliziotto, non del tutto Adesso vi faccio vedere Nella mappa praticamente questi simbolini qua sono tutte le caserme dei carabinieri della polizia Quindi adesso per essere effettivamente attivo al 100% per entrare nella propria uniforme della polizia Dobbiamo entrare qui, in questo punto, si trova qua vicino Quindi andiamo subito dentro Allora schiacciamo il tasto E che ci richiede Ed eccoci qua E siamo nella stazione di polizia Ok Quindi diventeremo un poliziotto Perfetto Perfetto Allora Passiamo Ok Ok Perfetto Prendiamo anche la nostra macchinina Già che ci siamo Ok Ok Prendiamo questa macchinina Ok Components Modifica Ok L'abbiamo modificata a manetta Così abbiamo una macchina abbastanza della polizia potente Ecco qua ragazzi Questa è la nostra macchinina Siamo effettivamente poliziotti attivi Quindi adesso vi faccio vedere l'uniforme Eccolo qua Voilà Questa è la nostra stazione di polizia Quindi adesso niente ragazzi Andiamo in giro A beccare i criminali Oppure a fermare Qualcuno per strada Adesso ci facciamo una bella passeggiatina Allora Io volendo potrei fermare questa macchina davanti Quindi adesso vi farò vedere un paio di cose ragazzi Voi sicuramente L'avrete già fatto Non so se ci avete giocato In modalità poliziotto Per pc Ragazzi Non so assolutamente se Su playstation 4 si potrebbe fare Comunque Facciamo Un controllo a questa macchinina qua Dai Bene Bene Si è fermato Prato si è messo in una posizione abbastanza brutta amico mio Ma un po' più avanti Eh non vuole più andare avanti Vabbè niente Facciamo quel controllo Scendiamo dalla macchina E gli chiediamo i documenti Quindi salutiamolo E gli chiediamo i documenti per la macchina Quindi si chiama Max Green Maschio Andiamo a meno un po' più lontano Ok Perfetto Allora 64 MW E T553 RECORD FOR FUGGITIVE 64 MW Non è sua la macchina Risulta come fuggitivo Quindi ragazzi Non tanto mi convince questo qua Adesso scendiamo dalla macchina Facciamo alcune domande Quindi Vediamo se è bevuto di recente E facciamo una bella volta Ragazzi Visto che non è la sua macchina Di 50 dollari Dai E più 5 punti Via Ecco qua E abbiamo fatto pure una bella volta Così può circolare tranquillamente Beh mica tanto Bene Sono andata a quel paese Con una bella volta Ok Andiamo via Chiudiamo la sirena Adesso voglio farvi vedere ragazzi Che posso tranquillamente Fermare uno a caso Per strada addirittura Tipo Vengo qui dentro Dove ci sono parcheggiati i taxi E volente E volentelo potrei pure arrestare Facendo dei controlli Quindi adesso Guardate questo tizio E parlerò con lui Quindi schiaccerò E E fare un controllo Per me non Tipo a me Ragazzi Questo qua Non mi piace Lo prendo Lo arresto Perché ha fatto Che non so Qualche rapina Di In passato E poi Lo riprendo Tra le braccettine Lo porto dritto In macchina Ecco qua Schiaccio nuovamente E lo porto Dentro la macchina Della polizia Così facendo Vado Nella mia Nella casella Di polizia In questo caso Lo dobbiamo portare Dove ci sono le sbagli Sto andando pure Contro senso Vabbè Allora In questo caso Dobbiamo portarlo Qui Deve essere Qui dietro E infatti Vado qui Allora Ecco qua Una volta Riportato Il simbolino L'abbiamo portato In carcere Così Da poter fargli Alcune domande Ed è fatto Ragazzi Adesso vediamo Di fare qualche missione Di avere Il proprio poliziotto E' che qua Un'emergenza Lo accettiamo Scherzando Y Quindi Sulla App Ci chiede di andare Subito Lì Cosa ti dice Che andiamo subito A verificare Accendendo Magari Le luci Stiamo arrivando Oh mamma mia Forse arriveremo Morti Toglietevi Toglietevi Di mezzo Toglietevi Oh mamma mia Ci siamo quasi Arrivati A prova Distributore Di benzina Ok Andiamo a vedere Che è successo Ok Ok Vediamo Praticamente Loro hanno fatto Rifornimento E sono scappati CTTV Blacksteel Colored Primo È un colore Scuro Ok Intelligenza Plate Was 120 VZ 201 120 Z Ok Ok Adesso dobbiamo Ricordarci Proprio Quello che c'è scritto Lì Dovevo fare pure la foto Che mi sono dimenticato Vabbè Aspettiamo un po' Oh Stai Ti sei ingannato Ah ecco Teprecis 120 VZ 201 Ok Quindi si trova qui Dintorno Allora si trova in quest'area qui Allora visto ragazzi che è abbastanza ampia la mappia Noi chiediamo aiuto alla polizia locale Quindi Quindi E hanno individuato una cosa lì Quindi Perfetto Oh che sei tu alla polizia Adesso dobbiamo vedere questa macchina qua Questa Ah no Già l'ha trovato lui Già l'ha trovato Perfetto Dove Ah è proprio questo qua ragazzi Vediamo se si ferma Non si vuole fermare Fermati ti sto dicendo Vediamo se riesco a bucare la ruota E non si vuole fermare ragazzi In questo caso Chiedo anche Ah si è fermato però Un intervento alla polizia locale Pensa che può bastare Un intervento alla polizia locale Fermati sta ancora scappando Sta scappando Un intervento alla polizia locale E non si vuole fermare E non si vuole fermare Oh si è arreso finalmente Dai esce fuori dalla macchina Esce fuori Nooo Che sa Così Boh Cagheti sotto Cagheti sotto Ok Bravo Così Così te voglio Ammettate E l'abbiamo ammanettato ragazzi L'abbiamo arrestato Quindi adesso lo porto Direttamente nella caserma Vieni con me Che ti porto Nella bellissima cella Di prima qualità Allora Quindi lo portiamo Nella caserma Più vicino Che si trova Qua Oh sorry Sorry Vabbè Normale Dovremmo camminare Un po' più Un po' più Meglio Comunque Ragazzi E dove si trova Sì Nel piano sotto Ok Eccolo qua Voilà E l'abbiamo portato Anche lui In galera Mamma mia Ripariamo un po' La macchina qua Che sennò Oh per adesso Prendiamo un po' Vabbè ragazzi Spero che questo video Mi sia piaciuto La modalità Della polizia E quindi Noi Magari farò un altro video Con questo Questo gioco In modalità polizia Va bene Ciao a tutti Ciao a tutti